papà vicino alessandrelli c'è superconti supermercato si dovrebbe essere attaccato a quello dove sei tu che disastro ora qualcuno devo aver ripreso proprio dai sbrigati scegli da sta macchina su quello che posso ti devi mettere il panciotto sei 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 no no sei sempre è elegante questo è sembra brutto deve essere un panciotto che non me la pastiglia a me che pazienza con te questo è troppo elegante ma basta il papà della sposa a me mi piacerebbe più quello dopo papà devi farsi due prove guarda che il panciotto in questo è bellissimo per me va bene tanto tu mettilo questo va bellissimo testiti con panciotto compreso capito io voglio che mi si vede la gravata se non mi si vede la gravata non mi piace guarda guarda che babbo che c'è primo sì o no prima volendo come vuole se no perché questo già è troppo alto comunque questo secondo me mi piace più da quelli che le tre come visto questa secondo me per me è la sento più mi sento meglio ecco tutta la tinta non va bene così perché sono scure ci sono grigliene questo è il bianco si vede il bianco no è nel corrente no ma tu non ti piace faccia capire non ti piace tu così io mi piace ma una gravata che sono incerto ma va bene secondo me va bene questo è più elegante di due bottoni e questo ma avete convinto allora secondo me secondo me va bene questo ok mi piace così secondo me contento oppure no il panciotto non tanto devo mettere la farrucca no